Sì, sì, però devo segnare gli score prima, ok, dovrei, sì, 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 questo. Attenzione, lo sta distruggendo, però adesso piglia l'ala e non è vero che noi gli vengono. Eh, allora, è forte ma non sbroccato perché però oggettivamente c'è davvero troppo lag. Sì, sì, sì. Eh, non è detta che piglia l'ala, ok, lo deve spaziare davvero bene. Il jump reversa, perché l'ha compiato da te, perché non si può volerlo, non si può volerlo. Eh beh, bravo, vedi, ha giocato con te e ha già assimilato, guarda che questa è la puntea. Oddio, secondo me succede qualcosa adesso. Che te dicevo, bravo, quando sei quello specchio spia? Mi piace, ma è molto molto, vabbè, però mi piace neanche la puntea. A te sta piacere buro? Eh, sinceramente, noi due, noi due, sì. Sinceramente si è gioca parecchio bene. Sì. Porta, mafio! Sai cosa? È difficile che arrivi a queste fasi del torneo dove sei scaldato. Non è tutto. Non hai tutto. Ah, già, ehm... Spera, magari ha finito sto game. No, perché adesso stiamo purtroppo... Ecco sì. No, raga, non c'è quello che intende. No, brava, ma siamo incazzati quanto a te. Per esempio, pure lui non può avere dei set nostri. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. È molto giusto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Oh, attenzione. Porta, mafio! Ah, senti qua, c'è sempre oculana, qui è sempre... È Gandix. Sì, adesso è un po' così Dai, dai Baffio, che ce l'hai Forza Baffio Ah, devo cavare anche su prima Già fatto tutto Porta Baffio Baffio, però, che baffioni Ha perso da ex Sì, sì Dai Baffio 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 Porta, baffio. No, baffiuccio, dai. Porta, baffio. Porta, baffio. Is that? Porta, baffio. Porta, baffio. Vai, fai una direzione del magia? C'è una moto, c'è una moto. Porta, baffio. Porta. Porta. Avelo. Ah, scusa... Ma... 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 ma aspettavo il waft, cioè... Mamma mia... ma... Dai, Raphaio... C'è che poi in realtà... Raphaio, baffio... Adesso che ci penso... Io pensavo... Eh vabbè però dai Lore... Bapio, ti perni di abbraccio oh 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 dai 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 che sto reverse ce l'hai dai 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 oh ma che si chiama cos�i ma cos'è su processo dono Mi devo smettere tutto, ma sorprese. Ma sorprese? Eh, allora. Bing. Mi sono nemmeno un po' di... Sì. Ma era... C'è reale? Penso che sì, sai. C'è un po' di controllo? Sì, c'è un pochino cloud, ma... Però è come se ne sai il mio particolare. E qui, mi sono andato a spingere? Lasciate allora, a posto. Invece un po' di... Il problema è quando si spegne. In realtà è anche che... Cioè, spingi sull'acceleratore sì, ma a volte lo fa quando non deve. Allora, secondo me, è più un problema quell'altro. Perché ogni tanto lo vedo... Sì, ogni tanto lo vedo proprio che... Trova, sì. Ma trovo tanto. Io l'avevo visto contro Raikuta, che per carità ha vinto, ma... Tipo, la finestra va tipo... Sì. Mi ricordo. Sì. 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 Ma ha mangiato... Ha mangiato... Ha mangiato la zappa. No, la... Sei qui. Ma c'è la sfera? Sì, ma la sfera che ti dava. Vabbè, vedi, il cuore è uguale dopo la sfera. E noi no. Qui no. Forza, forza, va, più! Vai, ferma. Questa è la pronta di... Questa è la pronta di... Ma quella è così? Ma tranquillamente... Io pure chiedi la pronta di... Eh? Non è che sto con i figli? Sì. Non è che sto con i figli? Eh? Sì. Eh, non si è pure. Eh, mi chiedi la pronta di... Eh, ha fatto attenzione al zappo e poi... Eh, mamma mia, bene male. Mi ha ripatio. Eh, vabbè... Va bene. Sì, perché facciamo il jab, va a fare un'evo. No, facciamo avere i pox. Sì, sì, esatto. Cioè, il jab è prendito che a guario non la bucazza. Bello. C'è un'evo. Al codico, al codico, guario. Ok. Nessi ce l'ho. No, 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 ma guarda che... Sì, esco, no, no, no. Dai, dai, Bapio. Questa è la... Questa è la... Questa è l'Axio Mix L. Bello, dai. Dai, non siamo al gas, Bapio. Può vincere. Bello. Dai, Bapio. Buono, Bapio. Bello. Eccolo. Eccolo. Stai svegliato? Attento, Burglur. Attento, Burglur. Attento. Attento, Mafio. Attento, Mafio. Bello. Bello. Questa è la conoscenza. Che cazzo sei così, Gioia? Una gallina. Se andava l'urlo, la cazzo è l'estero di all'una parte. Bello. Bello, 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 Bello. Guarda. Ma che frecce è... Non tanto la sparta. Dai. Dai, Bapio. Dai, Bapio. Forza. Bapio, Bapio. Bapio, Bapio. Dai, Bapio. Dai, non è. Forza, due a uno. Per Buglur. No. 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 Beh, guarda, dal numero ti direi. No. 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 Ma che ci siamo messi qui? Già il nome ci vedessi che anni fa Eh ma sei proprio scritto? Non volevo fare un po' il tocco? Però però ragazzi iscrivetevi perché la gente deve vedere che ci c'è Ci sei iscritto? Io sono i sami Scrivetevi ragazzi Sono i sami Ah va bene va bene Meglio, posso dire, io non andavo in macchina Ma guarda, ora ci vengo No no Ma tu sei fattore a te Fai fattore a te Ma tu hai fattore a te Ma tu hai fattore a te Però è tanto un monopatico per allenare Le persone vanno fattore a te Una cosa via personale Per andare a sperimentare se non stessi fissi E tu quindi fai dalla pesca Io faccio salato Salato Aspetta un po' che non ci vado Tu ne sei qualcosa Io ne sto sbagliando tanto E' un po' che non mi ha detto Ma non ti vado Non ti vado Ma non ti vado Ma la figata Ma non ti vado Ma non ti vado Ma non ti vado Ma questa è la propria di alchat, man No, cioè Ma questo è di più Ma non ti vado 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 L'ultimo eravamo mezz'ultimo. La malocca ce l'aveva quel maglialone. Dai, dai, Baffio! Baffio! Perché lì? Questa è la Burgur contro tutti. Eh, vabbè, la sentirai da tutti, ma c'è chi è più degno di questo nome e chi meno. Burgur Pirati ne è degno. Bello, Baffio! Bello, Baffio! Eh, non la lasciando troppo. Eh, vabbè. Oh, oh, no! Ok? Oh! Oh! Dai, dai, Baffio! Oggi non razzano. La stage spaccato. Era indaccabile. Come impanicare? Inizia a stentetto a stacosa, porco addio! La scoppoli! Oh, dai, 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 Baffio! Oh, Baffio, Baffio, un cazzo duro! Bello? Vai, Baffio! Baffio! Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Dai, Baffio! Dai, Baffio! Dai, Baffio! Dai, Baffio, vai! No, 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 Baffio! Eh, tu! Vai, fa' attenzione, Baffio, non hai ne capito. Vai, fa' attenzione! Baffio!